Carenza di medici di famiglia e proteste da parte di molti pazienti che lamentano soprattutto mancanze nelle visite a casa quando necessitano e il dovere a ricorrere a guardia medico pronto soccorso. Ne abbiamo voluto parlare affrontando il problema con il presidente dell'ordine dei medici della nostra provincia Francesco Alberti. La problematica principale e questo è fondamentale dirlo è che c'è una carenza notevole di medici di famiglia come di specialisti negli ospedali. Questo non è dovuto solo qui nella nostra provincia e nel nostro territorio ma è dovuto al fatto che purtroppo la programmazione dei medici a livello nazionale è stata completamente disattesa da parte di quello che erano gli input della Federazione Nazionale dell'Ordine dei medici. Circa dieci anni che la nostra federazione insiste sul fatto che dovevano essere aperti più spazi per gli specialisti, più spazi per i medici di medicina generale. Forse i cittadini non sanno che per accedere alle specialità c'è un concorso e questi concorsi erano limitati a pochi posti. Parlo di 12-13 mila posti su una popolazione di laureati in medicina ogni anno di circa 20.000-22.000 persone. Quindi un imbuto formativo per cui zero specialisti. Grazie al Covid, e mi dispiace dire che è grazie al Covid, grazie al Covid sono stati sdoganati altri posti per cui quest'anno abbiamo avuto, grazie all'intervento sempre della Federazione, ma comunque del MIUR e del Ministero della Sanità abbiamo avuto la possibilità di avere 18.500 posti per le specialità. Per quanto riguarda la medicina generale, quindi vengo al tema, diciamo alla sua domanda, per quanto riguarda la medicina generale lo stesso discorso, solo che i concorsi per la medicina generale sono regionali, ma comunque i numeri messi a disposizione fino all'anno scorso erano sempre inferiori a quello che erano le necessità. Quindi questo è molto importante perché i cittadini capiscano perché non ci sono medici. Poi, seconda cosa, il Covid purtroppo ha fatto sì che tanti colleghi si siano allontanati dalla professione, quindi dal loro incarico di medici in medicina generale, perché il Covid li ha un pochettino, come dire, sconvolti in quello che era proprio il sistema di lavoro che fino all'anno scorso effettuavano. Non è vero che i medici di famiglia non ci sono, non rispondono, per carità, non ci sono perché se contiamo solo sulla popolazione del comprensorio sanremese mancano 17 medici, con fronte a Genova dove ne mancano 14. Quindi voglio dire è un peso notevole questo e in tutta la provincia ne mancano 42-43. I medici di famiglia ci sono, sono pochi, purtroppo hanno dovuto prendersi carico di tutti i pazienti che sono rimasti senza il medico di famiglia ed oggi se il limite era 1.500 pazienti, oggi grazie a delle deroghe che ha dato la Regione, che ha dato il Ministero, siamo arrivati ad avere anche 2.000 pazienti per ogni medico e oggi sono certo che nella città di Sanremo ci sono almeno 3.000-4.000 cittadini che non hanno il medico di famiglia. Quindi questi sono dati che fanno pensare, che fanno riflettere e allora per questo che forse tante volte il medico di famiglia non riesce a superire a tutte le richieste e a tutte le necessità che gli vengono richieste. Questo io ci tengo a dirlo veramente perché posso dire con la massima sincerità che nella nostra provincia la categoria dei medici è una categoria presente verso i cittadini e io questo lo dirò sempre perché non è assolutamente vero. È vero altresì che per ovvi motivi è facile più che rispondano al telefono piuttosto che riuscire a trovare il tempo di visitare. Però oggi un medico di famiglia lavora 12 ore al giorno e questo io ne sono certo, per cui non volessero una difesa corporativa, è la verità.